CS, lunedì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilari Blasi con Alfonso Signorini. Il gruppo ha trascorso gli ultimi giorni in caverna tra momenti di riflessione e commozione ma anche tanto divertimento. A proposito di lacrime, Grande Fratello premiera quelle dello chef Andrea Mainardi che sente molto la mancanza della sua famiglia. Al centro della puntata anche le insinuazioni di Lori del Santo e non mancheranno le sorprese. Non sempre gradite. Infatti, oltre al verdetto del televoto che decreterà chi dovrà uscire dalla casa tra Martina Andy, Stefano Sala e Walter Nudo, ci sarà ancora un'eliminazione a sorpresa. Come al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialla Past Band durante la serata e nuove nomination.